Costruire ex novo una più adeguata e funzionale sede per il comando dei vigili urbani di Salerno nei pressi dell'area del ex IACP di Passena, adiacente al bocciodromo. È la proposta che è emersa stamani nella seduta della Commissione Mobilità del Comune di Salerno, alla quale, su invito del Vicepresidente Donato Pessolano, era stato invitato a partecipare l'assessore Mimmo De Maio. Dalle precedenti riunioni della Commissione, che aveva ascoltato anche il comandante dei vigili urbani di Salerno Vecchione, era emersa la necessità di intervenire sulla sede di Via dei Carrari. La riqualificazione dell'edificio ha posto anche in evidenza la necessità di avvicinare il comando della Polizia Municipale alla città per abberviare i tempi di intervento dei caschi bianchi. Tra le proposte avanzate dal consigliere Pessolano c'era l'ipotesi di utilizzare la caserma Angelucci, oggi ormai soltanto un archivio svuotata dalle sue precedenti funzioni. Oppure, ma l'ipotesi è stata bocciata per le difficoltà di spazi per il parcheggio, l'idea di riportare parte del comando in via prudente nei pressi degli uffici del Giudice di Pace. Rispondendo a queste sollecitazioni, l'assessore De Maio ha invece rilanciato con l'idea di costruire una nuova caserma. L'area individuata è, come dicevamo, nello spazio verde adiacente al bocciodromo di Pastena, oggi nelle mani dell'Acer. In attesa di capire se e quando l'ipotesi potrà essere concretizzata per la stessa area, è stata rilanciata un'altra idea, quella di realizzare un grande parcheggio. La proposta potrebbe costituire la soluzione per risolvere il problema della sosta delle auto nel quartiere, a ribadirlo il consigliere comunale Roberto Celano, che da tempo sostiene l'ipotesi, anche per mettere a disposizione una zona per il parcheggio dei bus adiacenti alla stazione Metro di Pastena da utilizzare in occasione della manifestazione Lucid Artista.